www.feyyaz.tv www.feyyaz.tv Non so, forse una decina di cose della vita, gli animali, le piante, i bambini, il cibo è una cosa sacra, ma i valdesi lo sanno molto bene questo, perché hanno passato dei periodi di vite durissime. Qualcuno nelle valli più in là, in Valchisone, ha scritto un libro, l'ha intitolato giusto appunto Vite Nere. I valdesi sono dei popoli che sono stati perseguitati, per cui in montagna hanno dovuto darsi molto molto da fare a cercare del cibo e hanno trovato sempre da mangiare dalla terra. Nelle persecuzioni non era carestia, però comunque era una cosa da sotterfugi, da carbonari, da nascondersi. La fame era tanta e anche probabilmente dovevano trovare delle cose molto nutrienti per sostenere certe fatiche, per scappare in montagna. Qui le popolazioni valdesi sono andate a ficcarsi nel vallone degli invincibili, che è un posto molto ostico. La chiesa valdese è una chiesa che prima di diventare tale era un movimento, un movimento che ha vissuto anni di persecuzione, circa 600 anni. E quindi ha molto caro questo senso di libertà, questo senso di poter decidere con la propria testa. E quindi direi che forse una delle cose fondamentali della chiesa valdese è la libertà di coscienza alla quale le persone sono chiamate. Anche un senso di responsabilità in prima persona è molto caro alla nostra fede. Per noi c'è un rapporto molto diretto tra chi crede e Dio e quindi non c'è bisogno di una mediazione che possa tradurre poi con codici etici o norme o dogmi quello che deve accadere. Ma la Bibbia pur rimanendo e pur essendo il fulcro attraverso il quale ogni valdese, sia uomo che donna, imposta la propria esistenza, c'è proprio una chiamata alla libertà individuale. Per essere valdesi vuol dire ricordare la storia, ricordare che siamo una chiesa storica, delle prime chiese protestanti. Vuol dire ricordare i nostri anziani pastori che nel tempo indietro sono stati sacrificati solo per avere la libertà di coscienza. Noi valdesi siamo tolleranti perché noi siamo una chiesa, come ben dice, la riforma, una chiesa che si riforma in continuazione. Non siamo fermi all'inizio quando eravamo in clandestinità alla chiesa di Valdo, ma ci riformiamo in continuazione per il cambiamento del mondo anche, di tutte le altre culture che ci vengono proposte adesso, che prima non sapevamo neanche l'esistenza. Allora abbiamo un buon rapporto con tutte le diversità che tolleriamo e noi seguiamo la nostra linea, ma accettiamo il dialogo e siamo molto propensi alle riunioni di dialogo e di interpretazione anche delle altre culture, non solo italiane, ma anche quelle che vengono dall'Islam, che vengono dalla Russia, che secondo il mio modesto avviso tutti abbiamo qualcosa di buono. Allora abbiamo un buon rapporto con tutte le diversità che ci vengono, all'inizio come l'islamo e di speranza. Allora abbiamo un buon rapporto con tutte le diversità che ci vengono, allora abbiamo un buon rapporto con tutte le diversità che ci vengono, al corso di tutti abbiamo un buon rapporto con tutte le diversità che ci vengono, Il territorio valdese è un territorio effettivamente di frontiera, un territorio che dà praticamente l'idea di cosa può essere la continuità di dove finisce una terra e ne inizia un'altra. E questo naturalmente è incorniciato dalle Alpi. La nostra cucina è stata influenzata da quello che è stato un po' la storia, quindi c'è i nostri rapporti sicuramente prima con la Francia, poi a partire dal fine 600 con la Mitte d'Europa, quindi la Svizzera, la Germania, anche l'Ungheria da una parte e poi successivamente a inizio del 700 con gli orange prima e poi tutta la grande cultura inglese. Dalla Svizzera e dalla Germania abbiamo per esempio portato l'usanza di mangiare frutta o comunque qualcosa di dolce insieme alla carne, quando non c'erano delle verdure. e poi abbiamo avuto la grande fortuna di avere questo incontro con i viaggiatori inglesi, da Charles Beckwith agli altri, quindi abbiamo avuto questa importazione, se vuoi, delle gelatine, per esempio il rito del tè, quindi questo è un po' l'arricchimento che abbiamo avuto da questa nostra storia un po' travagliata. Uno degli elementi dei valdesi, del valdismo, è il confronto sempre con il protestantesimo europeo e quindi l'Olanda, la Germania, l'Inghilterra soprattutto, da loro ci arrivano sia cultura che contatti di tipo religioso, aiuti economici, ma anche cose più curiose come il consumare il tè nel pomeriggio. Io mi ricordo con la nonna spesso e volentieri alle 4 del pomeriggio la pausa con il tè. Il cibo nella cultura delle valli valdesi è sempre stato un tramite, cioè un agape per far incontrare la gente, cioè il cibo per noi non è mai stato ostentazione. Io amo questo lavoro, quindi mi dà delle sensazioni incredibili. Io credo che veramente il cibo, il fatto di trasformare la materia, ti possa dare comunque delle emozioni fortissime, che sono appunto quelle della passionalità, della sensualità, cioè il fatto di provare del piacere a livello tattile, a livello di gusto, a livello di bocca, di questo mio piacere ne ho fatto un mestiere. Però devo dire che ti copre se vuoi tutti i sensi che noi possiamo avere nella nostra vita. Noi qua nei tempi passati eravamo un po' tagliati fuori dal mondo, quindi dovevamo cercare di cucinare delle cose con quello che si trovava sul territorio, quindi erbe, fiori, infatti si trova una tradizione anche di piatti cucinati con i fiori in primavera. Usiamo tante erbe nelle nostre preparazioni, il prosciutto alle erbe, il lardo alle erbe, la pancetta alle erbe, la mucetta, una volta di capra e di pecora, adesso si fa di bovino. E poi nella macellazione del maiale abbiamo un prodotto nostro, proprio della Valpellice, che è la mostardella. Lo sai che tutti si è sempre a dieta, ma poi fate altre stanno a fare la mostardella. E' un insaccato fatto con la testa del maiale, la lingua, i ciccioli che vengono estrati dal grasso, quello molle che non va usato nei salami crudi o cotti, un po' di cotenna, le frattaglie e poi le verdure che avevamo in inverno, porri e cipolle. Viene cotto tutto, tritato, mischiato con il sangue del maiale, che era importante recuperare anche quello, speziato con delle spezie che siamo venuti a conoscenza grazie al passaggio dei saraceni. Poi naturalmente facciamo lardo alle erbe, noi usiamo tantissimo timo serpillo, rosmarino, e usiamo tantissime erbe locali, soprattutto erbe locali. Siamo un po' legati anche al gusto dell'erba provenzale, perché siamo comunque sul confine con la Francia, quindi un po' di influenza l'abbiamo avuta. Sempre nel sciolco della nostra storia, della nostra tradizione, usiamo molto molto anche i fiori, per cui tutti i fiori edibili, dalle margherite alle violette, alla lavanda, a qualunque fiore, è sempre stato usato perché uno apportava e apporta nella cucina dei profumi e dei colori molto particolari, e due perché comunque fanno parte di una dieta e di una tradizione nostra. Fiori di serpillo. Guardate, mi hanno buttato lì insieme, credo che sia un po' di gusto. Come dire? Poi. L'allevamento del maiale in zona è sempre stata una cosa importantissima perché raccoglieva tutti gli avanzi, i pochi avanzi della famiglia. Era un animale molto rustico, quindi si adattava benissimo anche ai trasferimenti, anche perché noi qui di trasferimenti molto molto veloci, ne abbiamo fatti parecchi. Quando le forze cattoliche decidevano di cercare di convertirci, noi eravamo obbligati e anche molto abituati a prendere quello che avevamo e scappare in montagna. Quindi l'animale è sempre stato trasportato con la famiglia. E poi l'uccisione del maiale è sempre stato un momento di gran festa per la famiglia perché era un momento dove si mangiava quella poca carne che si poteva mangiare. Nella mia cucina, la cucina di Filippo, la cultura delle Vali Valdese è molto importante. Diciamo che la mia cucina deriva dai sapori, dai profumi delle mamme di casa fondamentalmente e dei prodotti che arrivano dalle nostre valli, per cui diciamo che abbiamo le radici, i piedi piantati sotto terra. Sono importanti soprattutto le materie prime, ma è importante anche trasmettere dei colori dei nostri boschi, delle nostre acque, dei nostri pesci, il profumo di un bosco, di un pino. Quello che sono appunto le nostre valli, le nostre tradizioni valdesi, questo qui. La super barbetta è praticamente il piatto che contraddistingue un po' le nostre valli, la nostra gente, perché prende il nome proprio da quello che sono i barbet, i pastori dell'epoca, erano soprannominati barba, gli zii della famiglia ancestrale. E poi soprattutto diventano il piatto simbolo il 17 febbraio, che è il giorno della nostra festa, per cui questa super è veramente un piatto di comunione, di stare insieme, per cui veniva fatto per tutta la famiglia, oppure quando c'erano delle riunioni per dei lavori dei campi, per cui diciamo che per noi è un piatto simbolo dello stare insieme, del vivere insieme. Il vivere insieme è un piatto simbolo del vivere insieme è un piatto simbolo dell'epoca, il vivere insieme è un po' le nostre valli. Grazie a tutti 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 E a tutti Grazie 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 a tutti E a tutti e a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti E a tutti con misura Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti E a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E 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 la E a tutti 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 E che E a tutti 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 E a tutti